tu non hai bemmane hai bemmane io non sono state a pappare non sono state a fare non sono state a farlo non sono state a farlo non sono state a farlo io non ho visto facciamo un uomo Ero, come si può fare. Ma come? Ma come? ... 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 Grazie La morte ha foushi. A qui a tu confié ton rôle? A qui a tu confié ton enfant rival? A qui a tu confié ton enfant rival? A qui a tu confié ton âmbito? E les amis de qui y a? Surtres d'accord. E non, si tu as confié. Si, si, non, si. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.